Sono riprese questa mattina le ricerche di Valentina Timoncini, la 22enne residente a Preturo, frazione situata a pochi chilometri dall'Aquila, di cui da venerdì sera si era persa ogni traccia. L'azione di ricerca finora non ha dato alcun esito, ma nella serata di ieri la giovane sarebbe stata individuata nel chietino grazie ad una cella del cellulare che si sarebbe agganciata alla rete. Alle ricerche stanno partecipando i vigili del fuoco, uomini del corpo forestale e del soccorso alpino della Guardia di Finanza. La ragazza si è allontanata da casa nella notte tra venerdì e sabato dopo una lida in famiglia. Non mi cercate questo l'ultimo sms inviato al fidanzato. Per coordinare le ricerche era stato anche allestito un comando mobile davanti una clinica privata proprio a Preturo. La foto della ragazza è stata fornita a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, ma in rete è virare il tantam di condivisione di un'immagine di Valentina con l'intento di partecipare al ritrovamento della ragazza. Familiari ed amici attendono con ansia il ritorno a casa della giovane. Si alza il sipario sull'edizione 722 della perdonanza celestiniana, quest'anno contrassegnata dal messaggio di misericordia contenuto nella giubileo indetto da Papa Francesco. Quest'anno la perdonanza è tornata a Stulmona in occasione della giostra europea. Si articoleranno in tre grandi tronconi, come ha spiegato il vicepresidente del comitato promotore, Alfredo Moroni. Dal 16 di agosto al 22 ci sarà la prima fase, cioè l'avvicinamento della fiaccola portata dai tedofori, seguita dai tedofori, fino al 23 in cui si accenderà il fuoco. Dal 23 al 29 ci saranno ovviamente le celebrazioni tematiche, specifiche, tradizionali della perdonanza. Dal 30 fino al 4 ci sarà la grande rassegna, diciamo, di iniziative dedicate al jazz che partono da convegni, spettacoli e poi 600 musicisti che per il secondo anno consecutivo testimoniano la loro solidarietà a questa città. Oltre 100 spettacoli fino al 3 settembre e altri 100 concerti. Il giorno 4, quello della grande maratona jazz, 8 convegni, il consueto incontro con le città gemellate, incontri su turismo, jazz e spettacolo, due marce, tre mercati, quattro piazze animate da cinque associazioni, progetti di solidarietà. Molto attesi alcuni eventi e tra essi il concerto di Massimo Ranieri, testimonia della perdonanza e il torneo della pace che vedrà protagoniste le formazioni giovanili di Pescara, Roma, Juve e Torino. L'interesse maggiore ovviamente è dedicato al corteo storico e al programma religioso della perdonanza celestiniana che si svolgerà comunque sempre nella Basilica di Collemaggio. Ad aprire la Porta Santa quest'anno sarà il Cardinale Menichelli. Quest'anno avremo la possibilità, nonostante la Basilica sia un cantiere, di entrare dalla Porta Santa e ovviamente tutto in sicurezza verrà percorsa dai fedeli, da tutti coloro che vorranno lucrare l'indulgenza, tutta la navata di destra della Basilica che va a riuscire appunto dalla porta anteriore. Grazie a tutti.